Il telefono, il telefono, il telefono, il telefono Io ti sento per voi Dica Senta dottore, io mi trovo in una situazione strana Strana? Sì, veda, io sono un uomo sposato e mia moglie è una bella donna Tutte le sere, dopo che ha fatto la doccia, si mette in baby doll Mi dai il bacetto della buonanotte e poi si chiude nel salotto a chiave Ho capito, potrebbe essere un caso di talamofobia Come dice lei, è grave? No, non è grave, mi deve dire soltanto quanto ci rimane diciamo nel salotto Beh, tutta la nottata, esce al mattino Ma per caso avete litigato? Ma per carità, noi con mia moglie abbiamo perfettamente d'accordo Ma lei glielo ha chiesto perché va a dormire nel salotto? Beh, una volta, sa, ed è andata su tutte le furie Allora dico, perché devo litigare? E l'ho chiesto a mio cugino Suo cugino è medico? No, no, dorme nel salotto Senti che notizia ha Senti che notizia ha La tele scrivente sta scrivendo tutto ciò che novità Di bellezza e attualità Ascoltate le sentite che notizia ha Senti che notizia ha La tele scrivente sta scrivendo tutto ciò che novità La tele scrivente sta scrivendo tutto ciò che novità Luigi Center News La tele scrivente sta scrivendo tutto ciò che attualità